Il candidato sindaco Renato Accorinti rompe nel dibattito sul rinnovo della concessione della Rada San Francesco ai traghettatori privati con una proposta destinata a far discutere. Nell'attesa che il porto di Tremestieri, soluzione definitiva al problema dei mezzi pesanti che attraversano la città, venga adeguato e completato con nuove invasature, saranno necessarie almeno tre anni, il pacifista propone che tutte le navi che trasportano automobili e camion attracchino al molo Norimberga, nella zona falcata. La proposta è supportata dalle valutazioni dell'economista Guido Signorino e dal comandante dei traghetti di rete ferroviaria italiana Sebastiano Pino. L'idea, dichiarato a Accorinti, consentirebbe di liberare la Rada San Francesco in pochi giorni e senza costi per la collettività, mantenendo invariato il numero di costi giornaliere e dunque dei posti di lavoro. Si tratterebbe di sfruttare i tre scivoli già esistenti, solo uno infatti è parzialmente già utilizzato dalla nave CarTour che collega Messina a Salerno. Nessun problema ulteriore per il traffico, assicurano i promotori, visto che in caso di necessità i tir potrebbero essere stoccati lungo i tre chilometri di percorso della via San Rai Neri. La soluzione però, come hanno sottolineato i giornalisti, non libererà via la farina e via l'Europa dal traffico dei tir, né consapevole a Corinti che però sottolinea che il numero dei camion circolanti in centro rimarrebbe comunque invariato. Comunque per liberare la Rada San Francesco è l'unica proposta concreta mai presentata. Accogliamo suggerimenti di chi può migliorarla, detto il pacifista, ma senza fantasmagorici progetti a lunga scadenza per non affrontare il problema, lasciando tutto com'è per tanti anni ancora.